Tanti cani, tutti randaggi in pieno centro a Frosinone. Cani che continuano a riprodursi e a vagare per la città creando situazioni di pericolo e disagio anche ai cittadini. È quanto accade a Viale Mazzini, nell'area compresa tra il vecchio ospedale ed il costone pieno di vegetazione che lo sovrasta, ironia della sorte, a pochi metri dal servizio veterinario dell'ASL. A prendersi cura di questi cani diversi volontari che, con mezzi propri, provano a fare il possibile, allertando e sollecitando le autorità, chiedendo soluzioni che però ad oggi non vengono attuate. I cani, tutti non avvicinabili, si riproducono, dando vita a grandi cucciolate e successivi branchi. Negli anni questi volontari sono riusciti a recuperare circa 60 cuccioli dati in adozione, ma ora non ce la fanno più ed intanto il numero aumenta. Ciò che chiedono questi cittadini è di porre fine a questa situazione di branchi incontrollati che molte volte si trovano in zone centrali della città, vista la vicinanza della loro base a Vialdomoro, ad esempio. Molti solleciti inviati ad ASL e Comune per chiedere una task force che possa perlomeno provare a sterilizzare le femmine, ad esempio attraverso l'utilizzo della teleanestesia. Un modo, insomma, per evitare che questi animali continuino a vagare in cerca di cibo e a riprodursi, evitando però anche il canile, che avrebbe costi enormi per le casse comunali e costi anche in materia di benessere dei cani stessi. Una soluzione che, sottolineano i volontari, era già presente nel programma del sindaco Mastrangeli, era quella del cane di quartiere. Quale occasione migliore, affermano i cittadini? Sterilizzare i cani per poi reimmetterli nel territorio potrebbe essere una soluzione, anche perché non partorendo più non si troverebbero a dover fare necessariamente branco. I volontari chiedono quindi una soluzione che sia dignitosa per tutti, per la città, che non avrebbe più un potenziale problema a livello sanitario e di pericolo, ma anche per questi animali, che non sono una cartaccia o una lattina da togliere per ripulire la città, ma esseri viventi, che in questa situazione rischiano anche di essere vittime di avvelenamenti.